Simona, una situazione d'emergenza che però state gestendo al meglio che potete. Sì, sono tre giorni complicati, adesso speriamo che la cosa finisca qua. Sono stati tre giorni davvero difficili, ci siamo trovati a dover fare di tutto. Davvero, innanzitutto cercare tutti i cani, controllarli, vedere che stessero tutti bene e per far questo aprire cancelli, quindi sfondare muri di neve, controllarli. Abbiamo tanti cani anziani per cui per loro la neve è davvero proibitiva. Quindi tenerli monitorati, somministrare cibo sempre caldo perché è molto molto importante per aumentare le calorie che hanno in corpo per poter sopportare il freddo. Ci siamo arrampicati ovunque per liberare tutti i tetti, le tettoie che erano a rischio crollo con così tanta neve. E questo l'abbiamo fatto tutti i giorni perché poi lo facevi, il giorno seguente eri da capo. Ci siamo date tanto da fare, ma noi siamo persone che si danno da fare. Non c'è stata nessuna criticità, gli animali stanno tutti bene, grazie alle vostre amorevoli cure. Però avete bisogno di una mano, se qualcuno ve la può dare. Sì, devo dire che l'aiuto qua è sempre davvero più che ben accetto. Volevo anche cogliere l'occasione da parte di tutta Melampo davvero per ringraziare tutte le persone che ci hanno dato una mano, ma davvero non c'era mai capitata una cosa così. Dal portarci le bottiglie d'acqua finalmente l'acqua è tornata. Grazie, davvero ci siamo sentiti aiutati, supportati davvero, nonostante le difficoltà fisiche da gestire, però abbiamo avuto spalatori più o meno improvvisati. Stamattina è crollata la casetta delle coperte, le coperte per noi sono fondamentali. E quindi un volontario meraviglioso che davvero sa fare di tutto, la puntellata, ristrutturata, quindi le coperte sono al caldo. L'emergenza è davvero grazie all'aiuto di tutti, siamo riusciti a gestirle secondo me bene. Sì, noi accettiamo qualsiasi tipo di aiuto, anche due pasticcini al pomeriggio, davvero. No, a parte gli scherzi però sì, abbiamo bisogno di aiuto, grazie a chi ci ha aiutato e grazie a chi vorrà continuare a farlo.